Quanti hanno spinto l'iniziativa, vi ringrazio anche per aver ricordato papà, felice, purtroppo non sa mancare come lo ha ricordato il nostro sindaco proprio la serata della manifestazione che c'è stata e in realtà voglio parlare proprio del rapporto che c'era tra papà e Zio Franco perché il rapporto privilegiato Zio Franco l'aveva proprio con lui, erano confidenti, amici oltre che cugini e infatti Zio Franco nel suo vocabolario, il vocabolario del Califo, alla parola cugini aveva dato due definizioni o i cugini di campagna o i cugini di via risorgimento e insomma per noi è una forte emozione, un momento davvero toccante Grazie